Proprio mentre la provincia di Imperia, così come molte altre province italiane, si appresta a rinnovare Presidente e Consiglio ancora una volta con una votazione indiretta riservata ai soli amministratori locali, da Roma giunge notizia che il governo starebbe pensando a riportare anche queste votazioni in mano ai cittadini. L'ho anticipato il quotidiano economico Sole 24 Ore di Confindustria, evidenziando come Lega e Movimento 5 Stelle stiano lavorando a una controriforma, destinata in sostanza a smontare la riforma del Rio, che portò appunto le province a essere cosiddetti enti di secondo livello. La nuova bozza di riforma invece torna a indicare le province con organi eletti direttamente dai cittadini a suffraggio universale. Si parla di elezioni dirette di Presidente e Consiglio provinciale e nomina della Giunta da parte del Presidente eletto. Lo stesso progetto prevederebbe anche l'eliminazione dei cosiddetti ato, vale a dire, gli ambiti territoriali ottimali, che si occupano di particolari funzioni, quale la gestione idrica tanto dibattuta nell'imperiese, che in questo modo tornerebbe direttamente in capo alla provincia. Presto però per dire se e quando la riforma o controriforma che dir si voglia diventerà effettivamente operativa.